Stefano col 5, Napoleon Caff, Biagio Loverde col 6, ma perché direi, Gennaro Pacileo e col 7, Malia D'Alfa, Mario Manzoni. Chiaramente tutti in prima fila i concorrenti di questa corsa, leggermente discosto, ma perché direi, dalle ali della macchina, cavallo che parte piano, al pali di Nisio, MRS, vanno a fare partenza Napoleon Caff e Malia D'Alfa, con Malia D'Alfa che vuole correre davanti, Malia D'Alfa e Napoleon Caff che se le danno di santa ragione per assumere il comando delle operazioni, si sistema in terza posizione Monday B, lancio in 12.8, molto veloce, in quarta troviamo Matteo Di Jesolo con Malia D'Alfa che è sfilata al comando e allora si fa veramente dura per gli altri concorrenti, perché può imporre il ritmo molto sollecito la Malia di Mario Manzone. 27.3, il primo quarto di corsa, si sta volando, terza posizione per Notorious, a seguire poi troviamo Matteo Di Jesolo che precede a sua volta Nisio MRS e a chiudere ma perché di re. 42.1, i 600 iniziali, Malia D'Alfa precede Napoleon Caff, Monday B, Notorious OM in quarta posizione, paletto degli 800 iniziali passati nel 57.9, 15.8 di frazione, ha leggermente rallendato Malia D'Alfa e Mario Manzone, sempre tallonati a distanza dal numero 5 di Napoleon Caff, il chilometro in 1.12.5, 14.6, la frazione con la mossa ora da parte di Matteo Di Jesolo che inizia la sua risalita trascinandosi a sua volta il 2 d'inizio e il 6 di ma perché di re, cavalli che passano i tre quarti in 1.27.5, 15 di frazione, si avvicina Matteo Di Jesolo, Malia D'Alfa ancora in fase di controllo, Nisio ha preso la scia di Matteo, terza ruota per ma perché di re, cavalli che si apprestano ad entrare in dirittura di arrivo con Nisio, con Matteo che passa, Nisio che va al suo esterno a centropista e Nisio MRS che è già padrone della situazione, Nisio allunga, se ne va, questa volta non lo vanno a prendere, Nisio MRS che va a siglare questa sesta corsa nei confronti di Monday B e di ma perché di re, terminati nell'ordine. 1.58.5 il tempo totale, 1.14.1 il raguaglio al chilometro, l'ultimo quarto in 31.15.1 la dirittura di arrivo. Nisio MRS, Mario Ferrara, 3.07 la quota al tot nazionale al secondo posto, uno strepitoso Monday B che va a precedere il 6 di ma perché di re.